C'è il numero di turisti che prenotano le vacanze in Italia. Gli alberghi, quasi la metà degli alberghi, hanno il tutto esaurito fino alla fine dell'estate. Il viaggio in Italia resta un'esperienza immancabile per i turisti stranieri. Il Grand Tour si prenota ormai online, ma Roma e le destinazioni più suggestive del bel paese sono tornate a essere le più amate. A dirlo sono i numeri del Ministero del Turismo e dell'ENIT. Nella terza settimana del mese di luglio risultavano al completo il 42% delle strutture ricettive italiane presenti sulle piattaforme web. Un più 3% di prenotazioni rispetto alla settimana precedente. Il nostro paese viene preferito anche ai tradizionali competitor mediterranei, Spagna, Francia, Grecia. La città eterna si conferma la meta più cercata online da parte dei turisti stranieri tra le diverse destinazioni italiane. Seguono Milano, Venezia e Firenze. Si difendono bene pure i borghi, in particolare quelli sui laghi di Como e Garda. Bellagio, Tignale e Domaso vanno per la maggiore. Archiviato definitivamente l'incubo Covid, il boom delle richieste online verso il bel paese torna a essere legato alla forte presenza degli stranieri. Un terzo delle prenotazioni fatte via web arriva da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna. Punta a consolidare e potenziare questa tendenza il piano strategico per il turismo appena presentato dalla ministra Santanchè, con l'obiettivo ultimo di fare proprio del turismo la prima industria nazionale.